Il tema sicurezza grazie al centro-destra è diventato una priorità a livello nazionale ma anche a livello locale. Come tutti sanno ho sollecitato molto che venga riattivato Città Sicure anche a Prato e Firenze. Firenze stanno arrivando perché la città metropolitana ha una linea diversa ma anche per Prato ci sono buone notizie. So che c'è stato un confronto proficuo fra le forze dell'ordine, il sindaco, presso il prefetto. È stata anche da allora rinviata la richiesta di strade sicure, cioè di avere militari in città e credo che a breve possa succedere. Lo so che non possono risolvere tutti i problemi di sicurezza che abbiamo perché sono tanti e trascurati ma sicuramente è un deteriente che può dare della tranquillità a coloro che li vede in città. Saranno presenti nel centro della città in delle postazioni stabilite poi grazie anche al prefetto, alle forze dell'ordine che individueranno quello ma deve essere proprio una cooperazione con le forze dell'ordine presenti in città che già fanno un lavoro straordinario. La Polizia Municipale dovrà essere ancora più presente nelle strade, nel centro della città, anche per il decoro urbano perché anche questo è un deteriente per la città, cosa sta mancando negli ultimi anni e insieme alla politica deve fare una sintesi e trovare il modo per rendere sicura questa città. La Polizia Municipale